Due alla fine con Gundogan che spreca davanti alla porta di testa, una delle partite che tatticamente mi gasa e mi ha gasato di più, faccio complimenti a Enzaghi, faccio complimenti a tutta la squadra, questa è una partita di crescita, attenzione, attenzione, poi adesso magari a testa alta, così, perché loro fanno gol nel minuto di recupero, magari lo facciamo noi, però questa è una partita di grande spessore calcistico, questa è la partita della maturità, questa partita l'avessimo fatta in finale a Istanbul, ma non potevamo farla perché non eravamo questi, perché la consapevolezza e la mentalità fanno tutto, questa è una partita che tatticamente è stata preparata da Enzaghi molto bene, è stata una partita un po' noiosetta, ma anche per colpa del City, che ha giocato sotto ritmo e sotto tono, secondo me, poi Guardiola si deve essere arrabbiato nel secondo tempo, Foden ha dato un po' di brio, anche Gundogan, insomma, De Bruyne come sempre con noi spesso si fa male ed esce, quindi poi è stato sacrificato, è entrato adesso Doku che sulla fascia è l'ira di Dio e da quando ci sono stati un po' di cambi il City spinge di più, siamo al novantesimo esatto, ci sarà recupero penso di sei minuti, Pippo Franco Mkhitaryan è entrato rabbioso, si capisce, molto semplice da fare l'analisi, non c'era nella finale, è entrato, ha fatto subito un fallo su Grilic che faceva il pagliaccio con la palla, ovviamente, ovviamente, gli è mancato non esserci in quella finale, stanno come sempre abbracciandosi, Alan, De Acerbi, ultimo cross, Svetta, ancora Lautaro Liberale, l'Inter ha avuto la capacità di creare molte azioni, il Manchester City dietro lascia molti spazi, noi andiamo, tra virgolette, a nozze con le squadre che giocano così, gli abbiamo fatto paura e gli abbiamo resi un po' contratti, gli abbiamo resi un po', ora sono abbastanza dinamici, attaccano quasi solo loro, però siamo bravi ancora a uscire palla al piede, anche prima con Lautaro che ha provato il Tio ad angolo, con delle occasioni che abbiamo avuto, con Darmian che si è trovato praticamente solo davanti alla porta e poi ha scelto di fare un tacco, con lo stesso Darmian che nel primo tempo aveva avuto quell'occasione straordinaria, forse non vi siete accorti di come Darmian abbia tirato nello specchio e come poi sia stata salvata la palla sulla linea, non mi ricordo da chi, non era Kanji, forse era lui con un colpo di testa a togliere la palla dal gol. C'è ancora Lewis che attacca, che apre ancora sulla destra per Doku che è entrato al posto di Bernardo Silva, numero con le gambe, cross in mezzo, calcio da Angelo con Carlos Augusto, secondo me è uno dei migliori in campo, sulla fascia si è dimostrato bravissimo in copertura e bravissimo d'attacco, Ederson gli ha tolto la possibilità di fare gol, lo stesso tiro che ha fatto Teo Hernandez col Venezia ed è entrato, non è entrato con un portiere come Ederson con un tiro simile fatto da Carlos Augusto. Bene tutti, ha giocato bene anche Bisse che ha schierato con coraggio da Inzaghi, ha giocato bene Barella che è stato quello che per me ha fatto meglio, insostituibile, imprevedibile l'uomo da tenere sotto osservazione, ha fatto bene anche Ciala, in un certo senso a parte i tiri ha fatto bene anche Zierinski che era alla sua prima vera partita con l'Inter, ha fatto bene Darmian, ma l'ho già detto, bastoni a parte un'amnesia che poteva costare caro, ha giocato bene, hanno giocato bene i reparti, hanno giocato bene le linee, Taremi nel primo tempo con Turam hanno creato molto e poi, non lo so, sembra quasi che ci manchi quella cattiveria, perché bisogna capire se davanti è una questione mentale, che non vuoi far fuoco l'avversario, oppure se è una questione di gamba o di fisicità. Tu arrivi davanti alla porta e poi a un certo punto manca l'ultimo tiro, manca l'ultimo passaggio, manca la voglia di andare a ferire, a me vengono in mente Aghero, Tevez, Milito. Ecco, se parliamo di tecnica, all'Inter, oggi lo scrivevo su quel pisciatoio cesso di Twitter, all'Inter, a questa Inter che rasenta quasi la perfezione tattica, perché in questa partita è stata meravigliosa, a me è chiaro che la partita non è stata delle più simpatiche, avrebbe detto Moratti, però tatticamente mi ha esaltato, perché questo è un PDC, processo di crescita reale. Cioè questa è una squadra che è andata con la sigaretta in bocca all'Ethiad, che ha saputo e sapeva cosa fare, che non ha avuto paura, che sapeva come colpiva, che sapeva e sa come coprirsi anche al novantatresimo in undici secondi, subisce l'ultima azione, credo, del City mai coperta, ha lottato, fisicamente era molto sul pezzo. Questa è una squadra che se oggi incontra, toccatevi pure le palle, se questa squadra incontra il Milan oggi con un po' più di cattiveria e non con davanti il City, ma con davanti il Milan, finisce tanto a poco. Così come questa squadra, se gioca col Monza, il Monza non riesce neanche a superare il centrocampo. Attenzione a Lewis che sta per fare l'ultimo passaggio su Doku. Attenzione, sbaglia, meno male, se non mi toccava dire a testa alta. Ancora Gundogan con un grande inserimento alla Frattesi che è al 93 e 52. Che cazzo vuoi, Guardiola che è già tenata bene in Champions. Ecco il cross di Doku e qui Bastoni va a vuoto. Pavard in ritardo ancora una volta, nessuno in mezzo. Guarda caso, dove stiamo rischiando? Dove ci dovrebbe essere un centrale che non c'è perché Cervi va a farfalle. Questa realtà, stavo dicendo che se l'Inter avesse due è finita, si scambiano un segno di pace in Zaghi e Guardiola, due sono i giocatori che mancano all'Inter. Van Dijk, uno alla Van Dijk o Van Dijk, perché a me piace come gioca Van Dijk, o uno alla Milito. Fine. Non è che ne servono dieci, ok? Non ne servono dieci. Serve un centrale fenomenale, e sto parlando di Van Dijk, oppure, no, Rudiger no, uno alla Van Dijk, oppure mi... Cazzo che ridere, gli ha detto, mi dai la maglia a Cervi e ad Allard? Gli ha detto, ma se me l'hai tirata tutto il tempo. E hanno scherzato Allard e a Cervi. Veri uomini, bravissimo. Allard è proprio un bravo ragazzo. Io l'ho visto una volta in una scena in cui rimette a posto i palloni dopo il lamento. Grandissimo Allard, vero uomo di calcio. Ecco, questa è una partita che mi è piaciuta moltissimo. È stato molto bravo Inzaghi, voglio ribadirlo, perché l'ha preparata molto bene. È chiaro che non era la finale, è chiaro che era... Stiamo facendo un girone, andare a fare un pareggio all'Ethiad, vuol dire prendere, credo, 750 mila euro, non so, mila euro, sa il cazzo, vuol dire uscire imbattuti, vuol dire che nella partita più difficile hai fatto un punto contro una squadra di favorite. Lautaro sotto la curva che regala la maglia. Attenzione, attenzione, perché poi sai, il girone, se poi vinci con le squadre con cui devi vincere, dimostri questa maturità, è chiaro che poi diventa... Non dico in discesa, però insomma, oggi l'Inter ha fatto una partita che mi ha gasato. Dei singoli ho parlato, di Inzaghi ho parlato, del meraviglioso pubblico che ha cantato ho parlato. Devo dire che il City ha fatto poco, non dico che era il City di Ballardini o il City di Mazzari, però ha fatto poco. Ha fatto poco soprattutto nelle individualità. Fode è entrato ma ha fatto poco, Grisci ha fatto poco, Gundogan ha sfrecato, Drey Bruni si è fatto male, Doku è stato il più incisivo di quelli che sono entrati. I nostri cambi sono stati importanti, insomma è stato bravo Dufris a tagliare con la palla in mezzo, Lautaro mi è sembrato un po' più operativo con le gambe, Frattesi, vabbè, senza voto, che entra insieme ad Aslani. Insomma non lo so, mi è sembrata una partita che se fosse stata una finale non sarebbe stata giocata così e invece siccome non era una finale è stata giocata così, però l'Inter dà un segnale. Poi, se devo dire la mia, quando Marotta dice la Champions League si può vincere, sì, vero, si può vincere, però all'Inter mancano due calciatori per vincerla e per poter veramente primeggiare. Un Van Dijk e un Milito, perché noi dobbiamo avere davanti un attaccante alla Tevez o meglio ancora la Milito che quando punta il difensore se lo mangia come faceva Milito con i vari scarsi Abate, Van Buiten, con tutti quelli che lui umiliava, ma anche mi pare con Cahill, mi pare con il Chelsea, lui dove deve andare qualcuno che va davanti e track, come ha fatto a Roma Milito, uno che ha davanti un difensore solo, lo salta e va in porta. A noi manca un Milito e un Van Dijk e non ci manca uno, magari la Di Bala, quello è un Vezo, non ci manca una mega ala, non ce l'ho con la Cerbia e De Verai, però ci manca un mega difensore giovane, forte, moderno, che possa veramente primeggiare in tutto. Con questo non voglio, anzi oggi a Cerbia è inesima partita top e poi ci manca uno alla Milito. Questo è il mio modesto parere di una partita che però rimane la storia per la bravura tattica, per la conferma della mentalità e della consapevolezza della propria forza. Poi è chiaro che sulla qualità ci sono squadre come il Bayern München, che quando le guardi, io ho visto il Bayern, poi mi sono rivisto gli highlight, con Kane, con Goretzka, con Kimmich, con Müller, con Gnabry, con Sané, cazzo, ma è possibile? Cioè ogni calciatore che entra è capace di mettere la palla all'incrocio e quella è la qualità, ok? Musiala, cioè ogni palla è, non so, ogni fanno fallo e tirano i rigori oppure fanno gol. Questa caratteristica non ce l'ha se ha la giornata il City e ce l'ha invece il Real, quindi io credo che le favorite siano più il Bayern e il Real del City quest'anno e l'Inter è una squadra che può fare male a tutte, deve alzare il ritmo, deve essere un po' più incisiva davanti e gli mancano dei giocatori che altre squadre hanno, però siamo sulla buona strada. Adesso toccatevi pure le palle, ma questa squadra, se questa squadra va in campo la stessa al derby domenica, io penso che parta da 2-3-0 con questo Milan, poi il derby è sempre il derby, toccatevi coglioni, però ragazzi, questa è una squadra che, questo Milan messo come adesso in difesa, loro faranno fatica anche ad avanzare, poi magari non so, poi magari vedi diverso, perché magari col Milan giochiamo, loro giocano più chiusi, ripartono, noi abbiamo difficoltà con le squadre più chiuse, questi invece comunque giocano molto aperti, noi abbiamo fatto il nostro gioco, il calcio è meraviglioso da studiare e da goderselo, forza Inter sempre, complimenti.